eccoci pronti vai tuffo dai un bel tuffo dai un bel tuffetto 1 2 oppala brava che cosa questo appuntato di lì se lo alziamo su ci vuole intero 4 dobbiamo farlo pirlare no figa va che ti prendi un giusto addosso dio caro ora ci vuole 4 3 o 4 lì a rasparlo su dai c'è solo il pietro vale già per tre vai 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 tiralo dentro di lì però dentro di sicurezza è troppo no un po' qui e poi lo facciamo ci vuole un po' però di dentro un po' adatto